Benvenuti a tutti! Prima di tuffarci nelle acque del nostro video, vi invitiamo a premere il tasto iscriviti e attivare le notifiche. Così facendo, avrete sempre un posto in prima fila per le ultime novità. E se gradite il contenuto, lasciate pure un mi piace! Nelle scorse giornate, il rumor sulla possibile gravidanza dell'ex campionessa di nuoto Federica Pellegrini ha iniziato a prendere quota. Tutto è iniziato con una story spostata dalla stessa Federica, che mostrava un biglietto del marito Matteo Giunta, riportante le parole Amori miei, buongiorno, torno presto. Questo plurale ha scatenato la curiosità dei follower. In seguito il settimanale Chi ha pubblicato delle foto della coppia con un titolo che lasciava poco all'immaginazione. Il nostro amore si fa in tre. Ma la conferma definitiva è arrivata proprio ieri, direttamente dalla Divina del Nuoto Azzurro. Federica Pellegrini è incinta! L'annuncio è stato fatto in maniera insolita e originale. Federica ha congratulato Morio Callaghan per aver battuto il suo record sui 200 metri stile libero, mostrando il suo pancione con la scritta «We'll take it back», cioè «Ce lo riprenderemo». Il post è diventato virale in un batter d'occhio, ricevendo migliaia di interazioni. Ma le novità non finiscono qui. Oltre a confermare la sua gravidanza, Federica ha espresso il desiderio di tornare a nuotare. Due fantastiche notizie in una. La conferma della gravidanza è giunta anche dalla madre di Federica, che ha rivelato al settimanale «Oggi» che sua figlia è incinta di oltre tre mesi. La notizia, però, è stata divulgata prima del previsto, proprio come era successo per il matrimonio di Federica. Nonostante questo, la futura nonna non vede l'ora di accogliere il nuovo membro della famiglia. A confermare la dolce attesa alla AGI è stato anche lo staff della Pellegrini. L'ex nuotatrice è incinta di almeno tre mesi, e l'arrivo del piccolo è atteso con grande gioia. Per quanto riguarda il suo record sui 200 metri stile libero, stabilito ai Mondiali di Roma nel 2009 con un tempo di 1 minuto 52 secondi e 98 millesimi, è stato battuto dall'australiana Molly O'Callaghan ai recenti Mondiali di Fukuoka, con il tempo di 1 minuto 52 secondi e 85 millesimi. Federica ha però risposto con sportività e un pizzico di humour, rivolgendo le sue congratulazioni all'atleta australiana attraverso un messaggio sui suoi canali social ufficiali. Che ne pensate di tutto ciò? Vi invitiamo a condividere le vostre opinioni lasciando un commento sotto al video. A presto!